Quali sono le principali criticità emerse nel corso delle visite nei penitenziari marchigiani? Sicuramente le criticità riguardano il dato strutturale delle carceri, nel senso che alcuni di questi edifici sono risalenti nel tempo e quindi accusano problematiche di carattere edilizio. Però voglio anche dire che rispetto alla situazione pregressa relativa alla popolazione carceraria si può affermare che stiamo uscendo dalla fase emergenziale legata al sovraffollamento.